ciao ragazzi eccoci a una nuova puntata di arte che stavolta è proprio speciale perché è un medley una raccolta di video che ho fatto su varie tecniche pittoriche e vari temi più che altro paesaggio diciamo ma tutte cose diverse tutti i lavori uno diverso dall'altro perché cambiando la tecnica logicamente l'effetto che si ottiene è molto particolare diverso quindi abbiamo l'uso delle matite colorate dell'acquerello dei pastelli ad olio e anche il collage che è uno degli ultimi lavori che vi ho proposto per chi non avesse niente da fare in un pomeriggio d'estate e volesse guardarsi tutte queste diverse tipologie di lavori e poi prendere spunto per creare qualcosa anche completamente diverso ispirandosi a queste diverse vedute di mare di montagna di città ecco che è questa l'occasione buona per rilassarsi anche sotto l'ombrellone e andare un po in vacanza con la fantasia quindi io spero che vi siano di ispirazione di spunto ve li metto tutti insieme poi vedrete voi quale vi piace di più allora buona visione e vi lascio ai tutorial e oggi facciamo un disegno con le matite colorate io ho usato quelle acquerellabili ma non è importante si possono usare le matite di qualsiasi tipo un foglio liscio ruvido a seconda quali siano le vostre preferenze e tanta buona volontà per colorare in maniera creativa disinvolta sciolta senza il pensiero di dover riempire tutti i puntini bianchi ma con naturalezza con divertimento quindi vi lascio al tutorial e ci vediamo dopo questo è il disegno da cui ho tratto ispirazione e che realizzo prima al lapis naturalmente in maniera semplice senza prendere delle misure con il righello ma andando un po a occhio naturalmente tenete conto che gli edifici che si trovano a destra devono prendere una più di una metà del foglio in larghezza e sulla sinistra c'è invece un paio di alberi e sotto queste rocce quindi il disegno comprende anche la parte che dovrò ombreggiare e poi prendo i colori che utilizzo a partire dal giallo che è diciamo il colore più chiaro che ho quindi vado a riempire le parti più chiare con dei tratti incrociati poi passo all'arancione e fin qui sono colori che si trovano in tutti gli assortimenti di matite di rossi invece ne usate varie tonalità però se ne avete uno solo va bene lo stesso potete usarlo più leggero più intenso quindi dovete variare la pressione della mano e potete mescolarlo con l'arancione o col giallo per ottenere delle sfumature diverse o col magenta anche se ce l'avete cioè il fucsia con il marrone vado a fare le parti in ombra e quindi a definire i tetti e le ombre che gli edifici creano l'uno sull'altro abbiamo quindi da fare questi tratti in maniera molto sciolta e molto libera e naturalmente anche in maniera precisa i contorni che non devono essere dappertutto diciamo che andiamo a sottolineare di più le parti più scure e quindi su questi edifici che non hanno dei colori naturalistici cioè non sono colori reali ma sono semplicemente un'idea che noi abbiamo di questo paesaggio che ci ricorda molto l'estate i colori caldi quindi ma anche tanta luce che otteniamo lasciando delle parti bianche quindi andiamo a colorare le varie facciate delle case, i vari edifici con rosso, arancione e giallo questi sono i colori principali oltre al marrone che serve per sottolineare le ombre i colori freddi invece li troveremo poi negli alberi e anche questi non saranno alberi verdi col tronco marrone e basta ma con caratteristiche più fantasiose quindi colori non realistici qui c'è un pochino di verde che era un verde acqua marina, un verde turchese io non avevo questa tonalità e l'ho creato con il verde chiaro e il celeste quindi andiamo a completare la parte delle abitazioni noterete che non ci sono finestre, è tutto molto stilizzato, molto semplificato e questo ci dà proprio un'idea anche di pulizia, di qualcosa di leggero, di poco impegnativo ecco se passo la gomma è perché magari mi sono accorta che il rosso era troppo intenso e l'ho voluto schiarire quindi si può intervenire anche in un secondo tempo con la gomma se avete utilizzato troppo colore a questo punto facciamo anche la parte sotto quella delle rocce che hanno più o meno sempre gli stessi colori qui il tratto è ancora più diversificato, cioè in tutte le direzioni per dare l'idea proprio dell'irregolarità di questi materiali rocciosi e quindi in maniera abbastanza spontanea ma ho tenuto conto naturalmente del modello di riferimento che ce l'ho sempre davanti, ce l'avevo aperto sul computer e quindi potevo sempre riferirmi al modello non è una cosa sbagliata copiare nel disegno soprattutto quando si deve imparare è qualcosa che fanno anche i grandi artisti, non nasce nulla dal nulla e quindi è bene avere sempre, o ci si ispira al vero, quindi a quello che vediamo nella realtà ma anche a un altro disegno, a una fotografia quindi qui adesso stiamo facendo il tronco dell'albero con appunto il marrone ma anche il rosso quindi altre parti della terra che è anche il verde e anche il blu ecco c'è l'utilizzo del blu anche nella chioma dell'albero e del nero per le parti più scure, quindi per l'ombreggiatura abbiamo un albero, quindi un pino direi con i colori più vari, dal rosso al blu al verde e di due tonalità chiaro e scuro al giallo ecco questo, mi è piaciuto molto di questo disegno il fatto che questo albero sia così colorato così allegro e il nero ci aiuta a far risaltare gli altri colori quindi non è che lo intristisca anzi qui ce n'è un altro albero un po' più piccolo sulla sinistra in cui appunto c'è un po' di blu anche nel tronco infine il cielo era un azzurro violaceo è usato proprio un violetto per spezzare con gli altri colori e deve essere usato in maniera molto leggera, molto dedicata non in maniera totalmente uniforme nel senso che ci saranno delle parti un po' più chiare, alte e più scure le nuvole derivano non tanto da un contorno ma dal colore che c'è intorno che le definisce quindi non si deve vedere una linea di contorno infatti non le avevo neanche fatte a lapis e quindi la mano molto leggera possibilmente nel cielo sempre nella stessa direzione io direi e facciamo anche il cielo che si vede attraverso queste arcate bene ragazzi questo è il lavoro finito allora qual è l'occorrente che ci serve per iniziare il lavoro innanzitutto un foglio rubido che trattiene meglio l'acqua dell'acquerello un lapis una gomma, una punta lapis e poi per dipingere un pennello io ho utilizzato un pennello morbido numero 5 con le setole che creano una punta per poter fare anche i particolari più piccoli un piattino di plastica da usare come tavolozza ma spesso gli acquerelli oggi hanno anche la tavolozza e appunto servono i nostri acquerelli i miei sono un po' datati sono di quando facevo l'Accademia di Belle Arti quindi oggi magari non lo so se si trova più questa marca comunque vanno benissimo quelli che si trovano nelle cartolerie non bisogna andare proprio in un negozio di belle arti i miei colori sono stati scelti uno per uno in base ai miei gusti mentre nelle tavolozze che vengono vendute c'è un assortimento più o meno completo e poi una ciotolina per mettere l'acqua quindi questo è l'occorrente e possiamo cominciare il nostro disegno allora vediamo il dipinto originale è questo bellissimo paesaggio con colori sicuramente non realistici ma che creano dei contrasti forti che colpiscono la nostra attenzione e soprattutto ci trasmettono delle sensazioni delle sensazioni anche gioiose perché sono colori brillanti colori con i contrasti di complementari tra il verde della strada e il rosso degli alberi il blu del paesaggio della città con il giall'arancio che troviamo nel cielo per iniziare il nostro disegno individuiamo una linea orizzontale che è quella proprio del ponte e si trova più o meno ai due terzi del foglio quindi andiamo a tracciare questa linea e creiamo il nostro ponte se ne vede solo una parte a sinistra dopodiché è interessante vedere che la strada parte dal basso per tutta quella che è la larghezza del nostro foglio e va a stringere creando una curva verso il ponte quindi ci saranno tre linee sulla sinistra e tre sulla destra che delimitano i margini della nostra strada andiamo a precisare ancora i particolari degli alberi sulla destra anche questi seguono naturalmente il principio prospettico per cui man mano che si allontanano da noi saranno sempre un po' più piccoli e gli alberi sulla sinistra sempre quelli con la chioma diciamo più o meno tondeggiante che vanno a rimpicciolirsi in lontananza dopodiché iniziamo a realizzare gli alberi privi di foglie quindi con i rami nudi che dovranno essere il più possibile contorti se vogliamo cioè non devono essere rigidi ma seguire un andamento più o meno ondulato e nell'albero sappiamo che dal tronco che più spesso si va verso l'alto con rami sempre più sottili quindi andranno sempre più assottigliandosi e questo albero in primo piano sarà alto fino al ponte dopodiché ci sono quelli un pochino più piccoli che seguono il contorno della strada a questo punto possiamo realizzare lo skyline della nostra città con questi palazzi, alberi e una linea che sale e scende e crea questa città in lontananza le auto nella strada le schematizziamo più grandi quelle in primo piano sempre più piccole in lontananza diventano delle macchie di colore alla fine ci sono dei rami sulla destra che entrano diciamo in parte nell'inquadratura del dipinto quindi si vedono spuntare senza che si veda il tronco dell'albero sono solo alcuni rami in primissimo piano quindi più spessi rispetto agli alberi che avevamo fatto prima a questo punto il disegno è pronto e possiamo partire con i colori quindi l'angolo in alto ha un colore rosato è come una nuvola per crearmi questo colore che io non ho utilizzo il rosso carminio e lo schiarisco con un giallo chiaro un giallo paglierino si può fare lo stesso anche utilizzando il bianco per chi ce l'ha quindi io ottengo la tonalità e con pennellate fluide il colore deve essere né troppo denso né troppo diluito e riempio quello spazio in alto a sinistra il resto del cielo ha questa tonalità di fondo gialla un giallo brillante, un giallo limone notiamo che ci sono dei puntini nelle macchioline verdi che vado a fare con il colore verde chiaro molto diluito e poi delle macchioline giallarancio anche qui il colore deve essere abbastanza liquido in modo da non creare dei puntini troppo definiti e troppo densi finito il cielo inizio con i palazzi più lontani per i quali utilizzo un blu cobalto perché è più chiaro dell'altro blu che userò per ciò che sta più vicino quindi più si va in lontananza più i colori sono sfumati quindi utilizzerò questo blu cobalto abbastanza diluito sono giusto tre palazzi in lontananza dopodiché il blu oltremare molto fluido per tutta questa fascia dello skyline dico molto fluido perché non lo schiarisco col bianco utilizzo il bianco della carta per far venire un colore non troppo intenso colore invece intenso mi servirà per il ponte quindi è lo stesso colore però molto più concentrato più corposo il ponte ma anche i margini della strada stando attento a non passare sopra i tronchi degli alberi e i rami a destra e anche ritrovo sempre lo stesso colore nelle automobili a questo punto possiamo passare avanti e utilizzare il rosso carminio sempre sempre un po' schiarito con il giallo paglierino o il bianco per il marciapiede sarà schiarito meno rispetto alla nuvola in alto quindi ci sarà più rosso e meno giallino e ancora più rosso invece stavolta puro per gli alberi le chiome degli alberi con il rosso carminio però abbastanza diluito quindi anche lì il bianco della carta mi aiuta a ottenere dei colori non troppo intensi soprattutto a creare delle sfumature vedete a destra il rosso non è uniforme ho cercato di delineare i vari alberi che sono unite le chiome e separandole solamente con la tonalità di colore adesso con il giallo limone che avevamo usato per il cielo però più diluito riempirò la parte del campo sulla sinistra starò attenta a non andare sopra i rami degli alberi a questo punto passo al verde utilizzo un verde esmeraldo per la strada e per quel pezzettino sulla destra però non lo uso sempre nella stessa densità sarà più intenso più concentrato diciamo così meno diluito nel primo piano per avere un colore più forte e andando in lontananza lo diluisco di più e così ottengo l'effetto proprio della distanza che schiarisce un po' i colori dopodiché riprendo il mio rosso carminio e stavolta usandolo molto denso quindi anche per poter ottenere delle linee sottili il pennello è quasi asciutto e il colore è più intenso per fare tutti i rami degli alberi di un rosso più vivo ma non solo una volta che avrò terminato le automobili con i particolari neri e giallo arancio prenderò il colore blu e creerò l'effetto dell'ombra nei rami degli alberi sempre con il blu oltre mare e in questo modo si dà ancora più rilievo a questo intreccio di rami ottengo il risultato finale e cioè questo effetto prospettico dato anche dalla densità del colore allora cosa viene apparso di questo lavoro? non è poi così difficile un nuovo disegno e dipingiamo con gli acquerelli un paesaggio tanto caro a Cézanne la montagna Saint-Victor ne ha fatte tantissime versioni più di 60 versioni ma ognuna era diversa dall'altra era una ricerca che lui faceva nello studiare la forma i colori e tutte le caratteristiche che potevano cambiare anche in un soggetto che era sempre lì fermo e quindi era lui che cambiava era lui che cambiava il suo modo di vedere che interpretava in modo diverso quello che gli stava di fronte e che trovava un suo linguaggio personale per provare in maniera diversa a interpretare lo stesso soggetto oggi lo realizzerò con gli acquerelli e la prossima volta ve lo farò vedere invece nella interpretazione con i pastelli ad olio in modo che ognuno possa trovare il linguaggio che più gli è proprio con cui si esprime meglio e infatti anche ai miei alunni ho lasciato libertà di scelta sulla tecnica con cui realizzare questo disegno allora cosa ci serve intanto oggi per fare l'acquerello? innanzitutto un foglio ruvido 24 x 33 cm poi ci serviranno gli acquerelli e stavolta userò quelli stessi che sono più comuni fra i miei alunni cioè i giotto gli acquerelli da 12 della giotto e poi un bicchierino per l'acqua un lapis una punta lapis e una gomma un pennello va bene quello che si trova nella confezione degli acquerelli ma va bene anche un altro l'importante è che sia morbido che finisca a punta e come grossezza diciamo io ho usato un numero 5 può andare bene dal 4 in su diciamo fino al 6 all'8 al massimo e poi ho utilizzato stavolta anche un rotolo di scotch di carta per fissare il foglio al mio piano di lavoro questo permette anche di tenerlo ben teso in modo che non si onduli troppo per l'uso dell'acqua quindi eccolo qui attaccato da tutti e quattro i lati cerchiamo di mettere lo scotch ben dritto che prenda un mezzo centimetro o poco più da ogni lato e questo creerà anche un bordino bianco nel nostro foglio che sottolineerà il nostro lavoro e ci permetterà anche di non uscire fuori di non sporcare quindi rifinisce meglio il tutto quindi iniziamo il nostro disegno con una linea dell'orizzonte che è un po' più su della metà del foglio e il profilo della montagna quindi l'originale è questo qui che vedete è una appunto delle tantissime versioni di Cezanne una delle ultime quando ormai Cezanne si è allontanato un po' dal realismo è andato più alla sintesi e sappiamo che Cezanne è considerato il padre spirituale dei cubisti quindi nel suo modo di osservare la realtà dai vari punti di vista vedere tutte le sfaccettature e dare un volume, una solidità alle forme ecco in questo i cubisti lo hanno preso un po' a modello quindi andiamo avanti con il nostro disegno utilizziamo come primo colore il celeste, il Cian per le zone più chiare del nostro cielo come vedete ci sono varie sfumature non ha sempre la stessa intensità pur essendo lo stesso colore che io ho diluito nella tavolozza che è il coperchio poi dei nostri acquerelli quindi deve essere preso un po' di colore e sciolto con l'acqua fino ad avere la densità desiderata naturalmente dove il colore voglio che sia più leggero e più chiaro lo diluirò maggiormente dove invece lo voglio un po' più intenso sarà più concentrato quindi più colore rispetto all'acqua quindi utilizzo l'altro blu un blu oltremare diciamo così che va a riempire delle zone più scure anche qui posso ottenere delle sfumature in base alla diluizione del colore e quindi non deve essere troppo carico deve essere sempre leggero abbastanza diluito perché il cielo non deve essere pesante non ci deve cadere addosso a questo punto ci accorgiamo che Cézanne ha utilizzato addirittura il verde nel cielo questo proprio perché a lui non interessava tanto essere realista al 100% ma è il suo modo di vedere le cose quindi queste sfumature di verde danno un tocco veramente particolare al cielo e sono qualcosa che anche dà più brillantezza e più vivacità il verde ho utilizzato quello chiaro dei due verdi che ci sono a disposizione e poi l'ho addirittura schiarito ulteriormente con il giallo quindi ho creato una tonalità ancora più chiara e luminosa in questo modo sono andata sulla destra a precisare alcune parti che avevano appunto secondo me questa tonalità finito il cielo sono andata a creare un profilo della montagna con il blu oltremare e ho anche individuato una linea sulla sinistra che scende che crea come una piramide tridimensionale quindi una volta fatto questo profilo sempre con il blu oltremare stavolta più diluito sono andata a ombreggiare le parti più scure invece ho illuminato con il giallo però leggermente scaldato da un pochino di arancio alcune parti più in luce della montagna quindi a creare quello che viene un po' in avanti rispetto al blu che ci dà un senso di profondità il giallo viene in primo piano quindi il giallo non ho usato quello già pronto ma ho creato io una tonalità leggermente più ocra a questo punto sono andata a utilizzare di nuovo il verde nelle zone di ombra della montagna stavolta il verde quello più scuro il verde smeraldo e quindi a sottolineare di più le zone ombreggiate sono andata a riempire le zone più chiare della montagna e a dare un po' uniformità al tutto infine mi sono concentrata con il blu oltremare a ammorbidire alcune spigolature e a dare un insieme più armonico a questo punto sono passata alla parte inferiore del dipinto quella della campagna diciamo così in cui in realtà c'è anche qualche casa ma io l'ho tralasciata e ho utilizzato il giallo l'arancione per creare questa parte più luminosa e calda varie sfumature di giallo non c'è assolutamente l'uso di un solo colore ma anzi più se ne usano e più il lavoro risulterà interessante poi sono passata al verde anche qui il verde chiaro a dare questa sensazione di campagna che va anche a sovrapporsi in alcuni punti con il giallo creando ulteriori sfumature quando si utilizzano i colori bagnato su bagnato cioè quando il colore non è ancora completamente asciutto io ci vado sopra con un altro colore questi si fondono e creano delle sfumature ancora più naturali sono passata quindi ai colori scuri quindi addirittura al nero usato molto diluito per sottolineare e dare contrasto appunto la zona in primo piano ma anche in profondità deve essere usato con molta attenzione il nero perché naturalmente non si può correggere questo in generale per l'acquerello è una regola si può modificare ma mai correggere completamente quindi bisogna lavorare abbastanza rapidamente e con una certa sicurezza che si acquisisce naturalmente con la pratica quindi a poco a poco si diventa sempre più esperti e si capisce come gestire l'acqua di questi colori queste macchie nere saranno in alcuni punti un po' più dense quindi più intense in altri più diluite tendendo al marrone marrone che poi sono andata a inserire per creare ulteriori variazioni e rendere anche meno contrasto forte questo nero che altrimenti spezzerebbe in maniera troppo violenta sono andata ancora a lavorare con il verde stavolta il verde è quello più scuro e a sovrapporre i colori per stratificazione per velature l'acquerello infatti non dovrebbe mai essere usato troppo denso ma queste velature trasparenti che sono vanno vanno poi a stratificarsi e così si ottengono i toni più intensi senza appesantire naturalmente il lavoro e quindi cercando di lasciare delle parti meno colorate se ci sono delle zone bianche quelle appunto sono i punti luce importantissimi che noi abbiamo appunto nel cielo e nella montagna ed ecco il nostro lavoro finito ho tolto lo scotch questo bordino bianco ci sta proprio bene e sono abbastanza soddisfatta una lezione speciale sull'impressionismo Monet in particolare è un quadro che proveremo a rifare insieme con una tecnica nuova quella dei pastelli ad olio quindi vi faccio vedere l'originale e il risultato che ho ottenuto con il procedimento che andrò a spiegarvi ma vediamo subito che cosa possiamo realizzare con i nostri strumenti qual è il materiale che ci serve quindi innanzitutto un foglio d'album 24 x 33 cm un lapis una gomma una punta lapis e i nostri bellissimi colori ad olio basta una confezione da 12 come quella che vedete per ottenere tutte le sfumature che vogliamo quindi iniziamo a fare il nostro disegno saranno pochi tratti di matita giusto quelli essenziali per inquadrare questa rappresentazione sulla senna di questo porto quindi c'è un sole che sorge un sole nascente su un uno specchio d'acqua quindi ci sono i riflessi sull'acqua che noi andremo a rappresentare iniziamo però dal cielo questi sono i primi colori che ho utilizzato quindi il color ocra il giallo il rosa carne l'arancione e l'arancione il tutto poi può essere sfumato con il bianco quindi invece che usare le dita per sfumare se non ci vogliamo sporcare le dita e vogliamo avere un effetto più morbido possiamo utilizzare il bianco ecco qui i primi tratti fatti con i colori che vi dicevo l'andamento è un po' obliquo e quindi delle linee che mescolano questi colori vi ho già messo pronti i colori successivi che andrò ad usare però prima vediamo un piccolo ingrandimento che appunto vi fa vedere come l'ocra il rosa carne e l'arancione vengono sfumati con il bianco vedete nell'angolino in alto a sinistra ecco qui abbiamo la parte centrale del nostro dipinto sempre con questa sfumatura ed ecco che i colori che si aggiungono cioè il blu e il porpora cominciano a rendere la cosa più interessante perché appunto si crea una vasta gamma di tonalità il bianco ci aiuta sempre a smorzare questi colori in modo che non siano troppo prepotenti che non non siano troppo sgargianti ecco un particolare ingrandito vedete se si vede la grana della carta non è una cosa negativa quindi l'uso del colore deve essere sempre leggero non dobbiamo cercare di riempire tutti gli spazi bianchi colore leggero poi il pastello bianco ci aiuta a sfumare ma se rimangono delle parti un po' più granulose con il bianco della carta si ha un effetto più luminoso questo è l'altro lato ci sono delle tonalità leggermente verdastre date dal sovrapporsi di ocra e blu quindi non ho utilizzato il verde diciamo che vengono se si vogliono evitare si deve evitare di sovrapporre questi colori così come il porpora mescolato con l'ocra da un colore più bordeaux più scuro ecco qui ancora questa sfumatura il blu viene quindi reso più delicato il giallo permette di dare luminosità ecco questo è l'effetto totale con il rosa carne che permetterà ancora di amalgamare di più questi colori ecco questi sono dei particolari per poi passare alla parte delle delle ciminiere delle fabbriche di questo porto che hanno quindi dei fumi che si innalzano nel cielo sono fumi più che grigi azzurri il colore per gli impressionisti è fondamentale quindi il nero si usa solo in maniera pura non non va a spegnere gli altri colori e le ombre di solito non sono nere ma sono colorate ecco il particolare delle fabbriche quindi il colore che diventa protagonista in queste tele qui ho posizionato i colori che sono andata a utilizzare ho colorato finalmente il nostro sole rosso arancio e sono andata a definire anche la parte destra del dipinto con questi colori anche un po' più scuri come il marrone che crea diciamo un po' di contrasto rispetto ai colori più brillanti quindi ecco l'ingrandimento sul sole e ho sfumato intorno in modo da renderlo più protagonista quindi su uno sfondo più leggero il colore rosso arancio deve spiccare in maniera netta e adesso ho cominciato a definire il fiume quindi sono dei tratti orizzontali stavolta e il riflesso del sole deve essere fatto per primo in quanto non è possibile mettere il rosso e l'arancione sopra il blu arancione e blu sono colori complementari si annullano a vicenda se vengono mescolati quindi si otterrebbe un grigio invece se giusto apposti cioè se accostati danno grande luminosità quindi prima di usare il blu definisco il riflesso arancione poi aggiungo gli altri colori nell'acqua non c'è solo l'azzurro ma c'è sempre il giallo ocra c'è anche il violetto il porpora oltre al blu ho usato anche il celeste più chiaro e anche il marrone appunto nelle parti più scure sono andata quindi a definire le barche che sono messe in diagonale e sempre meno forte il colore qui il nero è stato usato per la barca ma appunto spiegavo prima non viene mescolato agli altri colori bensì viene usato puro se si ritiene che in quel punto ci sia il massimo scuro e siccome è in perfetto controluce quindi l'autore Monet ha voluto farlo nero così come lui lo vedeva quindi vado a sfumare un po' in alcuni punti altri li lascio con la grana della carta che mi dà questo bianco in modo da non appesantire il dipinto ci sono anche dei tocchi in primo piano di verde e nero che mi danno proprio l'effetto di una vicinanza quindi come delle onde che si si vedono nel controluce quindi in questo caso il verde l'ho usato e il nero addirittura sottolineare questi punti così come ha fatto Monet quindi questo è il risultato finale non ho impiegato tantissimo tempo a realizzarlo così come facevano gli impressionisti che per cogliere quel momento quella luce lavoravano velocemente e sembrava che i loro lavori non fossero finiti secondo questi critici ben pensanti invece avevano tutta una loro filosofia diciamo così spero vi sia piaciuto questo modo di dipingere io naturalmente non sono all'altezza di Monet però mi piace anche rendere più semplice più accessibile la pittura e dare la possibilità di provarci abbiamo niente da perdere solo da divertirci da sperimentare cercare di creare di dare delle sensazioni non per questo siamo forse artisti come quelli famosi però è una strada che dà soddisfazioni un lavoro pratico divertente che può farci venire un sacco di idee e di ispirazioni si gioca con i cartoncini con i colori e si crea un'opera unica nessuno la farà mai uguale alla nostra noi prendiamo spunto da un'opera di Paul Klee che è acquario sottomarino che non è un collage come quello che faremo noi ma è un olio su tela però mi ha stuzzicato diciamo quest'opera e mi ha fatto venire la voglia di creare una versione naturalmente diversa ma che prende spunto da questo luogo fresco e che sta di vacanza per il nostro lavoretto occorrono cartoncini colorati lapis gomma a punta lapis un pennarello nero forbici e colla scelgo il cartoncino celeste come sfondo e creo delle forme negli altri cartoncini colorati mi ispiro al dipinto di Klee acquario sottomarino e quindi lavoro prendendo spunto da quello ma in maniera anche abbastanza libera sia sulle dimensioni dei particolari sia sui colori in base ai cartoncini che ho a mia disposizione quindi cambio un po' i colori anzi abbastanza e però diciamo che ho un punto di partenza che mi permette di lavorare con fantasia quindi comincio all'inizio a ritagliare diverse forme senza incollarle ancora ma cercando di capire lo spazio che occupano e con il lapis segno anche sul cartoncino celeste alcune forme che devono rimanere celesti quindi le forme fra di loro si incastrano in qualche modo è come un puzzle quindi devono creare questo mosaico di forme senza che ci sia proprio uno schema ben preciso anche perché stiamo facendo un disegno che è quasi astratto vedremo che l'unica forma riconoscibile sarà un pesciolino rosso che si vedrà quindi a colpo d'occhio le altre forme invece saranno gialle arancioni e marroni e nere ecco qui infatti sto facendo un pezzettino nero cerco di alternare i colori in modo da creare un effetto armonico poi poi sfrutto anche i ritagli per non sprecare il cartoncino insomma utilizzare tutto quello che è possibile tra l'altro posso anche correggere con le forbici se vedo che non corrispondono le forme non combaciano bene si tratta di un lavoro abbastanza libero ma allo stesso tempo che deve avere un criterio cioè quello di un'armonia generale perciò non è tanto importante farlo uguale all'originale al nostro modello ispirativo ma che il nostro lavoro abbia un senso quindi a un certo punto quando avevo già ritagliato tutte le forme principali mi sono un po' distaccata dal modello originale perché mi sono accorta che le dimensioni che avevo fatto io non corrispondevano esattamente a quelle di partenza ma potevo cambiare il disegno e aggiustarlo in base ai miei colori agli spazi che mi erano rimasti liberi ad esempio questa parte nera è un'aggiunta che non c'era nel disegno originale ed ecco che comincio con la colla a fissare i pezzettini altrimenti stanno diventando tanti e poi non ci si capisce più niente quindi cominciare un po' a posizionarli in maniera fissa mi permette di avere una maggiore chiarezza del lavoro quindi con una colla stick che permette un incollaggio pulito andiamo a posizionare le varie parti anche se non sono ancora tutte però cominciamo a fare ordine e già il disegno comincia a prendere forma ecco che ci sono degli incastri proprio che si ottengono anche con una leggera sovrapposizione se non è proprio perfetta però le misure ecco noi cerchiamo di farle combaciare ecco qui a questo punto ecco attacco gli angolini le parti che ancora non sono ben attaccate con la gomma ripulisco il foglio dalle linee sbagliate e continuo a creare altre forme che purtroppo non si vedono perché sono uscite dalla inquadratura comunque lo vedrete poi nel lavoro finito ripeto questo è un suggerimento ma si può fare con qualsiasi disegno o di propria invenzione o preso da qualche artista o da una fotografia da cui ricavare una semplificazione qualsiasi cosa può essere motivo di ispirazione ecco ad esempio un piccolo ritaglino mi è piaciuto inserirlo aveva già una sua forma un po' particolare anche qui dei piccoli dettagli che creano delle linee di contorno in questa parte inferiore vado ad aggiustare la forma e a incollarla ancora qualche qualche ultimo dettaglio di questo acquario sottomarino che è veramente molto di fantasia sono tutte forme irreali ripeto l'ultimo dettaglio sarà proprio questo pesciolino che è l'elemento riconoscibile e l'azzurro di fondo ci dà l'idea del mare quindi è così che amava Clè lavorare per suggerimenti non non copiava la realtà ma la inventava però con qualche piccolo elemento che ci riporta alla sua fonte di ispirazione ecco il pesciolino l'ho messo in un punto diverso da quello originale perché nel mio disegno stava meglio così ecco adesso c'è da ripassare tutti i contorni con il pennarello questo mi permette di evidenziare le forme ed era anche in quello originale nel dipinto di Clè quindi quindi è un richiamo al suo stile ma sicuramente ci dà anche un effetto molto più rifinito e più incisivo ecco si può anche capovolgere il disegno per non passare con la mano sul pennarello che macchierebbe la carta quindi girarlo secondo come viene meglio ripassare dove ci sembra che la linea sia poco definita ed ecco l'opera finita eccoci qui dopo questa maratona di immagini di tecniche di fantasia chi è arrivato fino a qui complimenti a chi ce l'ha fatta a chi è arrivato in fondo io vorrei che chi fosse arrivato fin qui mi lasciasse un commento in cui mi dicesse quale di questi disegni è quello che preferisce che avrebbe voglia di rifare o che gli ha dato una idea per un disegno di sua invenzione e questi commenti mi piacerebbe che mi dicessero anche se ci sono delle richieste cioè se avete qualche desiderio che io vi posso esaudire allora scrivetemelo nei commenti e io sarò contenta non solo di rispondervi ma possibilmente di confezionare una puntata di arte apposta per voi quindi mi sembra che possiamo realizzare qualcosa di bello insieme le idee mie le idee vostre mettiamo tutto insieme per fare qualcosa di creativo quindi io vi auguro buon lavoro buona vacanza buona estate buon tutto e vi do appuntamento alla prossima puntata di arte con le novità che naturalmente saranno una sorpresa un bacio e festeggeremo un anno dalla nascita di arte il 31 luglio è un anno e questo è il trentesimo video quindi il 31 luglio farò il trentunesimo mi do questa scadenza va bene allora vi aspetto alla prossima un grande bacione come sempre a presto ciao